Abbiamo provato a fare quello che predochiamo dall'inizio, aiutando a giocare un pochino più di squadra e avere un attimino anche la pazienza di mantenere la tranquillità, anche se non è sempre una puntezza quando si è subito due o tre punti perché è possibile che questo succeda. In altre circostanze la squadra Sfix Unite stasera invece ha giocato con un attimino più di attenzione su questo aspetto e questo mi è piaciuto, in generale non si può non aver fatto una gran partita, ma è un risultato più positivo. A me questa partita ha detto che ancora abbiamo da lavorare tanto e si vede da tante cose che facciamo e da tante cose che riportiamo dall'allenamento in partita, quindi è vero che oggi è una giornata che dobbiamo prendere il meglio di quello che possiamo, soprattutto la squadra deve prendere un pochino più di fiducia e lavorare su quegli aspetti sui quali, ripeto, predichiamo dall'inizio di questo angolo palafolistico e che ancora facciamo fatica a fare. Stasera siamo riusciti a dare un po' più di continuità all'aspetto della squadra, all'aspetto più della compattezza del gruppo e in questo andiamo avanti senza saltarci più di tempo. Poteva essere molto meglio, come ha detto già la natura, ha detto tanto la migrazione, molto, non è ancora ben aggiustato, però il gioco è un po' caustico, però abbiamo cercato comunque di fare migliore, in questo momento di fare migliore, alcuni migliori che siamo capaci e soprattutto a giocare insieme. E la tua partita sei in tenta? E come hai giocato tu? Come ho detto, posso fare meglio, perché io sono cosciente di quello che sono capace di fare, posso fare ancora meglio, quindi non sono satisfatta, sono contenta di fare, non so, quanti punti per la squadra, però per me non sono in quella situazione di fare ancora meglio, anch'io anche tutta la squadra. Grazie. 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 Grazie.